ecco abbiamo visto una volta prima cosa fare quando si clicca il pulsante giusto e quello sbagliato vedete stiamo solo giocando a far apparire o sparire dei pannelli ora visto che però è un po' bruttino che quando appare il pannello di risposta esatta o di risposta sbagliata poi rimane bloccati vogliamo fare un timer, cioè qualcosa che rimane fermo per qualche secondo tale da far vedere quel pannello ma poi vada avanti allora lo facciamo facendo una start coroutine e lanciamo praticamente un timer quindi lanciamo un timer che adesso poi andremo a creare vedete che è diventato rosso e la stessa cosa lo facciamo su qua sotto quindi sia con la risposta giusta che con quella sbagliata facciamo un timer e il timer lo facciamo come un ecco qui dovete imparare un po' memoria ienumerator sarebbe il diciamo ienumerator lo chiamiamo direttamente timer quindi facciamo questo metodo e poi qui faremo il comando che permetterà di ecco vedete che l'errore è perché non abbiamo fatto il corpo il corpo sarà fondamentalmente dovemo attendere quindi facciamo yield return wait for seconds e diciamo di attendere due secondi questo qui è il trucco nel senso che lui praticamente aspetterà per due secondi ecco in realtà abbiamo visto che se facciamo così compare in rosso in rosso vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato quindi l'elemento sbagliato è che bisogna fargli uno new ricordate che aveva imparato la memoria quindi si deve fare questo yield che vuol dire vai cioè vai e ritorna questa attesa quindi ritorna con questa attesa e comunque dopo che sono passati due secondi dobbiamo rimettere il nostro script nella posizione iniziale che era questo start quindi chiamiamo start e chiamando start facciamo semplicemente start e a questo punto il nostro script praticamente farà quello che ci aspettiamo cioè noi andiamo qua facciamo il play e col play vediamo che c'è questa combinazione quindi facciamo questa struttura rispondiamo con due risposta sbagliata ma dopo due secondi torniamo qua e uno risposta esatta quindi abbiamo fatto come vedete con un programmino che tutto sommato è abbastanza ancora piccolo se contiamo quante righe ci sono ci sono le righe in cui gli definiamo gli oggetti con cui deve lavorare poi gli mettiamo un'impostazione per dirgli semplicemente quegli oggetti metterli attivi o meno e poi gli diciamo di anche qui fare un po' il giochino del mettere attivo o falso cioè attivo o no diciamo al singolo pannello in modo tale da far vedere o meno i pannelli con le cose che ci interessano e poi vi ho fatto questo è un trucco ma tutto sommato neanche poi tanto complicato che permette di ottenere un timer un timer che dura due secondi e lo si fa con questi sistemi che sono dei sistemi ottimizzati proprio anche per i mondi virtuali nel senso che questa core routine viene gestita in un modo molto molto ottimizzato evitando lag i timer per intenderci sono sono tra le cose più complicate che possono distruggere ad esempio in second life in open sim un timer può fare danni però in unit invece i timer vengono gestiti inattivamente con questa struttura quindi ricordatevi i timer fatto così ci sono anche altri modi per farlo in unit ma questo è sicuramente senz'altro uno dei metodi più immediati cioè che si deve scrivere meno righe quindi praticamente con due righe anzi con in ricordiamoci soltanto di in enumerator e poi questo il director new wait for seconds che tutto sommato è ancora umano adesso nel prossimo video faremo invece una gui dove bisognerà digitare una combinazione quindi uno, due, tre, quattro tipo uno, tre e due, quattro per riuscire ad aprire una porta ad esempio queste cose questo può essere il primordio di un escape room o qualcosa del genere ricordatevi sempre di togliere il run ricordatevi ctrl s e salvare il progetto ricordatevi sempre di eventualmente salvare la scena e poi salvare il progetto la teoria dovrebbe salvarlo ma non si sa mai e questo è tutto per questo video grazie a tutti